Fa un po' strano guardare la targa di Piazza Fontana in una calda mattina di agosto, anziché, come tradizione vuole e impone, nel freddo di ogni 12 dicembre. Ma in fondo il messaggio di oggi è anche questo, il ricordo e la testimonianza devono correre tutto l'anno senza limitarsi ai giorni degli anniversari. E la corsa del ricordo diventa anche concreta, con l'asfalto che passa sotto i piedi dei membri dell'Agap, l'associazione Gruppi Amatoriali Podistici, che ogni anno da 38 anni unisce di corsa tre luoghi simbolo della strategia della tensione degli anni 60 e 70, tre luoghi dove il sangue di tanti innocenti è stato versato da attentati di matrice neofascista, Piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia e la stazione di Bologna. Dal 1985 ad oggi, anche a causa dell'età dei partecipanti, il percorso è stato ridotto a poche decine di chilometri, ma il valore di quei passi non è cambiato. Ha più significato di prima, perché adesso ricominciano a parlare delle stragi, ricominciano i processi ancora quest'anno con Brescia, i georgofili, ritornano e purtroppo è meglio non dimenticarle queste cose qua, perché poi succedono sempre delle cose abbastanza strane. La staffetta, partita martedì mattina da Piazza Fontana, si conclude mercoledì 2 agosto davanti alla stazione di Bologna, nel giorno dell'esplosione di quella bomba che uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. E dietro ai passi della memoria ci sono le voci delle testimonianze, quelle dei familiari di chi perse la vita in quegli attentati, un tesoro che più che mai dobbiamo impegnarci a tenere stretto e a tramandare. Noi abbiamo questa democrazia, ce l'abbiamo, però questo ci insegna che domani qualcuno ce la può togliere, quindi dobbiamo difenderla giornalmente e custodire questo orgoglio di conoscenza per far che le nuove generazioni abbiano questo antidoto e far sì che quello che è successo non abbia mai più da accadere.